E come ogni lunedì, come il camioncino che porta via la monnezza, ci ritroviamo con la rubrica Il posto sbagliato, la rubrica che non dovrebbe stare su LinkedIn ma ci sta e parla anche di LinkedIn. E oggi vi voglio parlare di 10 categorie di utenti che potreste trovare su LinkedIn. Non sono tutte, però ne ho messe giù un pochino. Innanzitutto faccio subito due categorie belle grandi. Uno è la categoria degli utenti che ricercano lavoro, perché LinkedIn può essere un ottimo strumento per cercare lavoro. Allora, se mi vedete, perché ho preso appunti, se no non mi ricordo di tutto. Delle persone che ricercano lavoro sono persone che normalmente, purtroppo, la maggior parte, si mettono in mostra solamente tramite i curriculum. Hanno dei curriculum enormi, ma purtroppo non vengono letti, perché se non appari sulle baccheche è difficile, se non tramite delle ricerche, venire scovati sulla piattaforma. Mandano messaggi asettici sulla piattaforma, nel senso sto cercando lavoro, punto. E quindi competenze, cose, eccetera. Difficile da farsi trovare. I peggiori sono quelli che mettono le suppliche. Vi prego, sono senza... Ok, forse se vi presentaste a un colloquio di lavoro supplicandomi, non è il miglior biglietto da visita che potreste portare. Seconda categoria enorme, i recruiter. Chi sono? Sono le persone addette alla ricerca del personale. scovano candidati idonei per le aziende, redigono annunci, sapete che c'è tutta la parte per la ricerca lavoro. Sono, si nascondono perché ovviamente quelli di prima, i ricercatori di lavoro, vogliono cercare il recruiter comunque. E questi sono un po' come degli agenti segreti, no? Stanno lì, guardano i profili a destra, manca, e poi al massimo sono loro che contattano. Però sono una marea su, pensate a tutte le agenzie interinali, e su LinkedIn spopolano, ma sono un po' nascosti. Sono un po' come dei guardiani, diciamo, una cosa del genere. E poi c'è un'enorme categoria che è quella dei promoter, che però ho diviso in tantissime parti. Parto dalla peggiore, secondo me, che sono i killer, denominati da me i killer. Ovvero sono quelli che ti chiedono, tra virgolette, l'amicizia, qua non si chiama amicizia, ma è il collegamento. E un secondo dopo ti fanno un'offerta per comprare un loro prodotto. Subito, senza passare dal via, senza ritirare 20.000 lire. E sono i peggiori, cioè, a me è capitato una volta un tizio che mi ha dato il collegamento, tre secondi dopo mi hanno mandato un link per scegliermi il giorno del colloquio che avrei fatto con lui per acquistare un suo prodotto. Ma io non sapevo neanche che prodotto vendesse. Cioè, rendetevi conto, è un grosso problema. Altra piccola sottocategoria dei killer sono quelli, li chiamo i killer marchettari, sono quelli che ripubblicano a manetta tutte le cose della loro azienda. In maniera anche qua asettica. Link, 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 tutte le news, tutte le singole pagine del sito. Non so quanto possono essere utili. Poi ci sono i guardoni. I guardoni sono quelli che non pubblicano niente, non cliccano niente, ma guardano e giudicano di nascosto. Guardano. E dicono, adesso comincerò a usarlo. Forse. Ma per ora guardo. E rimangono lì in attesa anni, decenni, eccetera. Poi ci sono i storyteller. I storyteller sono quelli che raccontano delle storie, normalmente ispiranti o comunque delle storie che potrebbero esserti utili, ti ispirano qualcosa, ti danno qualcosa. Comunque sono utili perché delle volte fanno conoscere delle storie di successo a cui veramente, ripeto, ti puoi ispirare. Questa non è una categoria che non mi piace. Questi mi piacciono. Poi ci sono i consigliatori seriali. Sono quelli che non pubblicano niente sul loro profilo. Non c'hanno niente, non c'hanno neanche il curriculum, tante volte. Curriculum intendo la pagina con tutte le proprie attività, lavori, eccetera. Ma consigliano tutto. C'hanno la loro bacheca. Tutto quello che passa nella loro bacheca. Consiglio. 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 Secondo me lo fanno più che altro per essere visti dagli altri. Anche qua non so quanto possano essere utili. Però sicuramente per i nostri post che spesso sono poveri di interazioni sono utilissimi averle nella propria rete, diciamo. Poi ci sono i guru. E qua sapete tutti chi sono i guru. Sono quelli che mettono frasi motivazionali, frasi a effetto. Tante volte tutta roba già vista. Sanno come far progredire l'azienda. Ma non si sa come mai non portano mai degli esempi concreti. Ok? E questo ovviamente li chiamo guru per sfottere. Perché poi ci sono quelli che sono sì, guru, veri e propri, che mettono gli esempi concreti. Questi sono guru fuffa, fuffa guru se vogliamo. Non ci sono mai esempi concreti. Ti fanno vedere loro quanto stanno bene. E intanto ti vendono il corso a 100 euro. Magari. Se va bene. Perché alcuni sono dei pacchi clamorosi da migliaia di euro. Va bene. Stanno lì. Normalmente le cose che pubblicano le trovate ovunque. Ci sono degli account Instagram che fanno la stessa cosa. Praticamente per andare lì. Se vuoi una frasetta motivazionale, eccetera. Sono i finti coach, per capirci. Perché poi adesso molti si improvvisano coach di qualsiasi cosa. Poi abbiamo gli studenti, che a me stanno sempre simpatici. Gli studenti perché sono quelli che scrivono formazione continua. Cioè hanno soltanto post di formazione continua. Dici quanto tempo hai passato a studiare? Cosa stai mettendo in pratica? Cioè stai mettendo in pratica? Davvero. Perché è solo formazione. Avete visto? La nostra azienda fa formazione. Io sto facendo formazione, che io faccio formazione. Dico fatemi una foto con me ogni tanto. Che facciamo girare, creiamo reti, eccetera. Fanno, scrivono solo formazione continua. Normalmente foto alla scrivania o foto allo schermo dove c'è zoom aperto. E queste, queste, vabbè, zoom negli ultimi due anni va un casino. E formazione non sono né buone né cattivi. Ti fa un po' ridere perché sono quelli che poi seguono le qualunque academy create magari dei fuffaguru. Ok? Occhio perché le cose possono essere intercambi... Cioè possono incastrarsi anche non bene. Poi ci sono i Facebookchettari, li ho chiamati. Sono quelli che pubblicano link a manetta come se fossero su Facebook. Se non che spesso lo fanno per portare le loro idee e cercano lo scontro. Sapete, l'ho detto un sacco di volte, Facebook è il social negativo per eccellenza. E loro lo fanno anche su LinkedIn, questa cosa. Fare molta attenzione è perché cercano continuamente lo scontro. E non credo se tu fai un network di lavoro vai a cercare lo scontro. Cioè piuttosto come... Chi vogliamo sempre la nostra stanza, vogliamo persone che siano più allineate con i nostri valori. E infine anche su Instagram... Scusate, su Instagram, su LinkedIn, ci sono gli influencer. Gli influencer sono quelli che hanno capito abbastanza come funziona in questo momento il mondo e quindi non pubblicano solo cose della loro azienda ma mettono la loro vita, i loro valori, le loro cose sulla piattaforma in maniera dedicata magari linkando anche persone, creando reti è vero, mettono molto della loro vita in piazza ma fanno trasparire il loro valore e soprattutto, siccome noi non compriamo soltanto i prodotti ma compriamo anche chi ce li vende o gli intermediari, o i commerciali o gli stessi professionisti è utile per capire con chi ci stiamo mettendo a fare degli affari Questi sono dieci, se ce ne sono altre consigliameli anche tu adesso sono i primi dieci che mi sono venuti in mente Questa era la rubrica Il posto sbagliato io sono Fabio Mattis seguitemi su Telegram, su telegram.me o t.me slash we are the net che è il mio canale dove da mattina a sera pubblichiamo cose di digital e non solo, partendo dal virtuale, arrivando al reale Ciao a tutti, il posto sbagliato Ciao ciao